Il senatore Ignazio Merino. Innanzitutto grazie per il vostro saluto. Io confermo che il mio impegno su questi temi, come c'è stato dall'inizio del mio impegno politico, continuerà con grande forza. E voglio ringraziare i radicali, come li chiamo io la pattuglia radicale, perché veni criticato quando durante la composizione delle liste elettorali dissi una frase che mi sento di confermare con molta forza. I radicali, almeno nel modo in cui li ho conosciuti io, sono persone assolutamente trasparenti e soprattutto sono leali. Sono leali e lo sono molto di più di tanti altri componenti della vita politica. E quindi dobbiamo a loro veramente moltissimo di quello che è stato fatto negli ultimi 30-40 anni nel nostro Paese. Voglio dire che, iniziare subito da quanto ha detto Stefano Rodotà, è vero, noi non abbiamo bisogno di nuove leggi, abbiamo bisogno di regolamenti, di una legge che in qualche modo renda attuabile dei principi che esistono nella nostra Costituzione, che sono chiarissimi. E' inutile che qui ci dibattiamo su se noi abbiamo o non abbiamo la libertà di scelta rispetto alle cure mediche. Noi l'abbiamo, è scritto nell'articolo 32 della nostra Costituzione. E' chiarissimo. Noi dobbiamo solo fare un altro passo, un passo che evidentemente è legato alla storia, al progresso scientifico, alla tecnologia. Quando i nostri padri costituenti, appunto quei comunisti come Calamandrei, come ha detto prima Stefano Rodotà, hanno scritto la nostra Costituzione, era il 1947. Molti di voi forse non sapranno che il primo respiratore automatico è stato inventato nel 1952, cinque anni dopo. La prima nutrizione artificiale alla fine degli anni Sessanta, inizio degli anni Settanta, quindi molti anni dopo. E' chiaro che loro quindi si confrontavano con il mondo come lo conoscevano e hanno scritto un articolo che è veramente di una sintesi straordinaria. Lo hanno scritto con la volontà di includere tutti, tutti i cittadini, a prescindere dal loro credo, dalle loro convinzioni, dalle loro culture, e dare a tutti la libertà di scelta e il diritto di salute. Ma evidentemente lo hanno scritto in un tempo e in un momento storico. Quindi è chiaro che da quel principio ne deriva il fatto che ci deve essere un assenso esplicito, perché in quel momento, in un'epoca in cui era difficile reperire gli antibiotici, non si poteva immaginare che qualcuno potesse avere dei mezzi straordinari, davvero lontani anche nella fantasia in quel momento della storia della medicina, per cui una persona potesse essere salvata oppure anche mantenuta in una vita artificiale da macchine e che in quella fase non c'era più nessuna possibilità di recupero della sua integrità intellettiva e quindi doveva, se voleva dare delle indicazioni, deve oggi lasciarle scritte. E allora io mi chiedo, ma qual è la differenza tra il fatto che noi possiamo dare delle indicazioni nel momento in cui entriamo in un ospedale o ci confrontiamo col nostro medico, con i nostri medici rispetto a una malattia più o meno grave e diciamo sì, io voglio seguire questo percorso o io non voglio, è il fatto che invece nel momento in cui non abbiamo più la possibilità, scusate ma viene da usare questo termine, di difenderci, lo dico io che sono un medico e non credo che dobbiamo difenderci dai medici, ma di far rispettare i nostri principi, i nostri diritti, quando non possiamo più parlare, quando non possiamo più esprimerci, non conta più nulla quello che noi abbiamo detto, abbiamo fatto, il modo in cui abbiamo vissuto fino a quel momento. Ed è chiaro che quindi noi abbiamo bisogno di una legge come se la sono data a tutti gli altri paesi. Non è bizzarro che solo nel nostro paese si discuta di mettere in una legge delle indicazioni di terapia, ma io davvero non voglio offendere nessuno, ma la terapia me la deve indicare un leader del centrodestra o me la deve indicare il mio medico curante? Non esiste nessun, andatele a guardare, non esiste nessun paese al mondo, un paese o se la dà o non se la dà una legge su questa materia, ma chi se la dà non è così bizzarro da andarci a scrivere quali terapie metteci. Ma poi ecco un'altra cosa importante, ora ritornerò sulle terapie, a parte il fatto di come è stata scritta, ma l'articolo 2 è di un pericolo straordinario, l'ha già sottolineato Stefano Rodotà, ma io lo voglio sottolineare alla presenza di Mina Welby con grande forza. L'articolo 2 è scritto in un modo per cui una persona come Pier Giorgio Welby, che ha riflettuto per nove anni se vuole o non vuole una terapia, se la ritiene proporzionata o sproporzionata, siccome c'è scritto che il medico non può più disattivare nessuno strumento dal quale ne consegua la morte del paziente, è chiarissimo, è scritto in un pessimo italiano, ma è chiarissimo il concetto, beh, non è possibile più per nessuno di noi, se quella legge diventa legge, anche se possiamo parlare, se vogliamo sospendere una terapia dalla quale dipende la nostra vita e che noi riteniamo che non è più proporzionata alle nostre convinzioni, ai nostri principi o alla nostra fede, beh, non potremo più sospenderla e questo noi non possiamo permetterlo. Questo è un attacco chiaro alla nostra Costituzione, ai principi dei nostri padri costituenti, ebbene ha fatto il Presidente Napolitano ad avere il coraggio, la determinazione, la fermezza di non firmare una legge che era chiaramente anticostituzionale, contro i nostri principi. Allora, se vogliono, vadano per la strada principale e provino a cambiare la Costituzione di questo Paese. Vediamo chi li seguirà. Poi abbiamo sentito tanto del pane, dell'acqua, dell'assistenza, dei disabili. Io rimango sbigottito. Nella legge che ci hanno presentato, dove non hanno voluto accogliere nulla dei suggerimenti, del lavoro di due anni e mezzo, di decine e decine di audizioni, di convegni, non hanno ascoltato nessuno, ci fanno vedere in tutte le televisioni che governano delle scene evidentemente drammatiche, di difficoltà di vita, strazianti. Beh, nella loro legge non c'è una parola, una riga per il sostegno ai disabili, una riga per le cure palliative, una riga per gli hospice, una riga per le terapie, per la sofferenza, per il dolore. Non c'è. Non c'è. Nella legge eversiva che Emma Bonino, io e tanti altri abbiamo presentato all'inizio della legislatura con la seconda firmataria e Anna Finocchiaro, ci sono su 26 articoli 13 sono dedicati proprio a questo, all'aiuto ai disabili, alla sofferenza, alle cure palliative, agli hospice. Nella loro niente. E hanno già detto che non gliene importa niente, che si farà in un'altra legge, si farà più in là. In questo momento, in questi articoli non verranno accolti. Almeno questo è quello che è stato detto. Beh, io poi credo che quando si entra, e mi dispiace in questo devo contraddire l'amico e la persona che stimo tantissimo, Stefano Rodotà, non è dibattuta la questione se la nutrizione artificiale è terapia medica. Non lo è dibattuta. Nel mondo scientifico non è dibattuta. Se io devo portare un paziente, se io devo essere, se domani mi ammalassi di un cancro all'esofago e devo avere una nutrizione artificiale, il mio chirurgo mi deve portare in sala operatoria, mi deve addormentare, mi deve fare un taglio nella pancia, infilarmi un tubo di plastica dentro, tecnicamente si chiama PEG, e Luana Anglaro aveva un sondino nasogastrico, ma la maggior parte dei pazienti nella sua situazione hanno questo tipo di dispositivo. Beh, ma insomma, io devo dare il consenso, viene un chirurgo a farmelo, e un altro mi addormenta, la prescrizione ogni giorno quando io faccio questo lavoro, se ho un paziente in un reparto che fa terapia nutrizionale e non prescrivo, o qualcuno dei collaboratori non prescrive l'ordine di quel giorno da mandare alla farmacia, ti chiamano e ti dicono Marino, senti, guarda che non c'è l'ordine, quindi non possiamo mandare la sacca a quel paziente per la nutrizione interale, non la prescrive il cuoco, la prescrive il medico, è terapia. Ma veniamo, e poi mi avvio a concludere perché sono tanti altri che dobbiamo parlare, veniamo al punto, secondo me, io non voglio fare dell'ironia, ma secondo me quando hanno deciso di scrivere quella legge si sono chiusi in una stanza e hanno detto chi è che è stato sempre rimandato in italiano? Uno ha alzato la mano e dice allora la scrivi tu. Poi hanno detto vediamo come possiamo renderla inapplicabile e che cos'è che hanno fatto? Hanno detto ma vediamo, mettiamo che bisogna ripeterla ogni tre anni, ogni tre anni bisogna ripetere la dichiarazione, cioè il testamento biologico e come ripeterla ogni tre anni? Innanzitutto ogni tre anni significa che se una donna intelligente di vent'anni che si occupa di tante cose nella vita ma si preoccupa anche dei suoi diritti e di se stessa decide di scrivere il suo primo testamento biologico e oggi ha un'aspettativa di vita di novant'anni e quindi ne vivrà altri settanta deve riandare ventitré volte ventitré volte dal notai ma come ci deve andare? Ci deve andare con il fiduciario con la persona di cui lei si fida e ci deve andare con il medico di famiglia ora un medico di famiglia ha 1500 assistiti fatevi un conto se ognuno vuole fare se a quel medico sfortunato gli capitano 1500 assistiti che vogliono farlo deve andare 500 volte l'anno dal notario tolti i sabati e le domeniche ci deve andare 3-4 volte al giorno ma vi sembra che si può chiedere questo ai medici di famiglia o gli dobbiamo chiedere di assistere bene i pazienti che seguono e poi il notario io gliel'ho detto al presidente della commissione sanità gliel'ho detto in seduta ma li vogliamo ascoltare io non voglio anche qui fare però secondo me notaio e gratis sono come l'acqua e l'olio sono come l'acqua e l'olio e lì nella legge ci hanno scritto che il notario deve fare gratuitamente ma non gliel'ha detto nessuno non li abbiamo neanche chiamati in audizione io ho alzato la mano ho detto presidente Tomassini li vogliamo far venire in audizione sentiamo cosa ne pensano no magari no non è necessario gratuitamente in Italia abbiamo 4729 notai se un terzo dei cittadini italiani decidessero di fare di rinnovare il testamento biologico ogni notaio dovrebbe fare gratuitamente nell'arco della sua vita circa 100.000 atti gratis secondo me in quella stanza c'è stato anche qualcuno che ha detto facciamogliela scrivere sulla pergamena e con l'inchiostro di china ma quella non è passata ora lasciamo l'ironia così ma vi rendete conto è chiaro che si è voluta reggere ah e poi il bacio della morte gliel'ha dato quello che si è alzato ha detto scriviamoci non vincolante cioè noi li mandiamo ogni tre anni col fiduciario col medico di famiglia e poi ci scriviamo che non conta nulla ma comunque il punto centrale è un altro il punto vero è la nostra libertà la nostra possibilità di determinare di autodeterminare le cure che vogliamo e le cure che non vogliamo noi viviamo in un paese che ha una costituzione straordinaria che dà a tutti il diritto alla salute e di questo ci dovremmo preoccupare perché veramente dovrebbe essere per tutti e non solo per alcuni o solo in alcune parti del paese questo è un vero problema ma nello stesso tempo nessuno di noi può essere obbligato a una terapia ve lo dice una persona che ha speso tutta la vita lavorando in alta tecnologia la chirurgia di cui mi sono sempre occupato è una chirurgia costosa altamente tecnologica però ho sempre pensato nell'orgoglio di introdurre nuove tecniche che l'esistenza di una nuova tecnologia non deve costituire per nessuno l'obbligo a utilizzarla per nessuno e poi concludendo questa questione della via italiana ma Beppino e Luana la moglie di Beppino sono come ha detto Stefano sono degli eroi nazionali sono degli eroi civili sono delle persone che hanno voluto seguire un loro percorso sono stati infangati è stato detto dal presidente del consiglio io ho veramente delle cose terribili dal fatto che Luana poteva generare dei bambini al fatto che il padre voleva sbarazzarsi di lei perché era stanco una famiglia unita da un amore straordinario ma un amore vissuto con estrema civiltà non si è voluto cercare scorciatoie si è voluto seguire quello che la legge e i tribunali della nostra Repubblica stabilivano di volta in volta e io lo devo dire con molta chiarezza io credo nella separazione dei poteri io credo nella nostra magistratura ci credo e mi fido come mi fido dell'amore dell'amore delle persone e io ho una figlia se a un certo punto dovesse trovarsi a prendere quella decisione io mi fido più dell'amore di mia figlia che dell'amore di Maurizio Gasparri e quindi penso e lo riaffermo e lo riaffermeremo in questi giorni con gli emendamenti che noi vogliamo una legge e faremo tutti gli sforzi perché la cambino faremo tutti gli sforzi perché la cambino una legge che dia a ciascuno di noi la libertà di scegliere una legge che dia la possibilità alla famiglia di decidere nel proprio intimo con l'amore con i consigli dei propri medici quali decisioni prendere ma se faranno questa legge noi ci batteremo perché venga cancellata perché venga cancellata al più presto perché noi abbiamo il diritto di poter fare le nostre scelte beh io chiudo chiudo qua dicendo soltanto che corriamo un grande pericolo il pericolo che noi non avremo soltanto una situazione come quella di Eluana Englaro ne avremo migliaia avremo i tribunali invasi da conflitti tra medici pazienti famiglie e questo dobbiamo davvero cercare di fare in modo che non avvenga e voglio dire che rispetto a tutti questi declami sulla sofferenza sui disabili persone che noi rispettiamo e vogliamo aiutare nel modo più forte possibile io credo che la vera differenza non sia tra i credenti e i non credenti la vera differenza è tra chi di fronte alla sofferenza si raccoglie e china la testa e chi pensa sempre di conoscere la risposta giusta grazie